Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata, sono la dirigente del liceo, ho riconosciuto tantissimi volti di genitori, studenti, insegnanti e anche qualche volta invece più anonimo, quindi benvenuti anche ai cittadini di Fornì che hanno corso questa occasione della serata conclusiva del ventesimo festival della scienza intitolato a Marilena Zorcoli, è stato per noi un anno particolare, abbiamo voluto dedicare non la consueta settimana ma un mese a questo festival nato 22 anni fa ma di fatto ricorre la ventesima edizione quest'anno proprio perché il Covid aveva bloccato ogni attività in presenza, è una iniziativa che caratterizza la nostra offerta formativa e che apre le porte del liceo a tanti esperti del mondo scientifico, realizzato grazie al lavoro sempre molto intenso del Dipartimento di Scienze anche con collegamenti interdisciplinari ad altre materie che caratterizzano nel senso liceo scientifico e che avvicina i ragazzi a temi di grande qualità e offre anche approfondimenti di carattere scientifico non indifferenti. Questa serata è stata realizzata grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Nuova Cività delle Macchine e a Roberto Camporesi che ringrazio per l'ennesima volta perché ci consente, diciamo che è il nostro esterno interno, di fatto è il nostro collaboratore e effettivamente ci consente di a volte intercettare anche personalità che sarebbe per noi difficile avere con noi. Questa sera veramente abbiamo l'onore di ospitare la senatrice Abita Elena Castanio che converserà con il professor Claudio Casali tutti i miei scientifici. Mi fa piacere che ci sia una donna in questa serata conclusiva. Il nostro festival è intitolato a Marilena Broccoli che era una docente stimatissima di questo liceo che ci ha lasciato prematuramente e che sicuramente con alcuni insegnanti in particolare i professor Casali ha avviato questa attività del festival della scienza. E quindi mi fa piacere che in una scuola di impronta scientifica in cui ogni giorno cerchiamo di avvicinare sempre più ragazze anche a quel piano di studi un po' più, diciamo, tecnico è una parola difficile, però un po' più mirato alle materie scientifiche, alle materie esterne, che un po' spaventano il genere femminile, che ci sia, diciamo, appunto, una donna di scienza come Elena Castanio che chiude con questa sua presenza con noi. Quindi vi ringrazio, lancio spiegando la parola a Roberto Camponesi prima e poi a Claudio Casali. Cerchiamo di essere tutti molto sintetici perché vorremmo apprezzare la visita dell'azionatrice Castanio come scienziata. Grazie. Anch'io, per esempio, la società delle macchine, non so se tutti si conoscono, diciamo che è un'associazione nata por lì e nel 1987 a quel tempo cercava di assecondare e di applicare il lavoro di una rivista che, collaborando a sviluppare gli eventi che producevano i contenuti per la rivista. Quella rivista del 2012 si non c'è più, l'associazione è nata avanti e continuiamo a fare delle cose cercando di avere come obiettivo quello di divulgare la cultura scientifica, cercando di tenere insieme culture scientifiche e culture macchistiche. E da questo punto di vista mi dà soddisfazione e la vostra rividente diceva che ha usato la parola collaborazione, una bellissima parola, in tempi di lamenti, in un modo per potercela trovare e cercare di essere capaci di collaborare meglio. E quindi mi fa piacere dire che abbiamo cercato di dare qualche aiuto e quindi rievoco velocissimamente, abbiamo collaborato per organizzare l'incontro su Pasterra, su come nasce la vaccinazione, poi con il professor Corbellini, poi quello sulle neuroscieniche con il professor Boncinelli e questa sera siamo qui per la senatrice Elena Cattani, che è una ricercatrice, una professoressa universitaria e l'incontro di questa sera avverterà nel cercare di raccontare cos'è che lei ha scritto in questo ultimo suo libro, Armato di scienza. Io devo dire che nel ringraziare la senatrice personalmente, nelle relazioni che abbiamo avuto per cercare di contattare, avevamo l'obiettivo di portarla qui il 10 di dicembre scorso, quando abbiamo fatto un evento per ricordare Pietro Greco. Qual è il motivo? Pietro Greco è stato un grande comunicatore della scienza che è venuto a mancare, che ha avuto la cittadinanza onoraria a cordivese e quindi un personaggio che ha molto collaborato con il nostro territorio e ha fatto sì che la discussione, la vivacità culturale avesse degli stimoli. In questo libro la senatrice dedica il libro a due persone, una è Rostella Panarese, l'altra è Pietro Greco, che sono venuti a mancare a poca distanza l'un dall'altra e che sono due importanti figure della comunicazione della scienza in Italia. E basandomi su questo richiamo, ho cercato di provare a farla venire a dicembre, ma la sua azienda è una azienda davvero impegnata e non lo dico per piageria, ma continua a fare la ricercatrice, continua a fare la senatrice, poi come tutti noi ha una sua famiglia e credo davvero un regalo quello che ci fa questa sera nel transito da Milano a Roma nel rubare un po' di tempo, nel regalarci un po' di suo tempo in questo momento qua. Io voglio dire solo una cosa senza urbare spazio, ma perché non fu possibile a dicembre, ma io le chiesi ma se si può in futuro e lei generosamente poi ci propose una data e io cercai di agganciarmi prendendo e poi è venuto fuori in questo modo l'incastro col festival e mi sembra una serata bella che possa concludere questo momento di impegno. Ecco, il filo conduttore è comunque Pietro Greco e quindi vorrei dedicare una piccola riflessione a lui perché penso che ci porti direttamente poi dentro il tema della presentazione del libro. E cosa pensava Pietro Greco? Pensava in termini interdisciplinari, guardando scienza, tecnica, arte, filosofia e cultura con non tutt'uno e nel suo discorso, quando gli fu conferita la cittadinanza onorale a Pogli, dopo aver ribadito con le parole di Primo Levi che la divaricazione delle due culture è una schisi innaturale, ribadito l'importanza dell'esperienza forlivese come stimolo alla conquista di uno spirito critico. A Forlì ho scoperto tutto il valore dell'interdisciplinarietà, interpretata non come fredda sovrapposizione di diverse discipline, ma alla maniera di Italo Calvino, come menaggio attuale tra scienza, filosofia e arte. L'intreccio che è unico può aiutarci a muoverci nel labirinto, a penetrare la densa e latticinosa complessità del mondo, anche l'unico che può aiutarsi nel tentativo di dirittare il mondo verso una fattura desiderabile. Questo è il frutto di incontri che lui aveva fatto qui a Forlì nell'ambito dell'organizzazione degli eventi che si tenevano, animati da una persona, da un forlivese, Gino Zavatti, che è in fondo alla sala e che mi fa piacere salutare e che è qui con noi questa sera. Ecco, avere a cuore l'unità del sapere, una cosa non facile quando l'accelerazione del processo di accumulo della conoscenza aumenta e si accentua all'importanza degli specialismi. Nel suo essere intellettuale del 160 gradi, Pietro era sempre attento a metterci in guardia da quegli approcci utilitaristi-pragmatisti che si limitano a proporre collezioni di fatti e che non hanno bisogno di un'epistologia forte per interpretare e connettere tra di loro le conoscenze prodotte con metodo scientifico. Stasera parleremo di metodo scientifico. Delegando agli esperti la soluzione dei problemi. Sapeva bene infatti che questo linguaggio, tutto questo approccio iper-specialistico, genera linguaggi iper-specialistici e un attore di babele della scienza dove ogni specialista parla un linguaggio incomprensibile agli altri e all'intera società. Questo rischia di generare la banalizzazione dei saperi, vale a dire la produzione di saperi incapaci di generare cultura diffusa. Al contrario, proprio a fronte di questa accelerazione avremo bisogno di nuovo, di una nuova e formidabile capacità di reinterpretazione critica e di un costante lavoro di interconnessione, di comprensione dei contenuti e di recupero dell'unità del sapere. Nel suo piccolo uno di noi cerca il farlo, ma farlo in grande, non a caso oggi un gruppo di ricerca serio è sempre un gruppo di ricerca interdisciplinare fatto di tante competenze diverse. Che rischio? Siamo nel rischio di produrre degli inalfabeti tecnologici degli smariti nell'universo nell'era già trionfo della scienza e della tecnica. Un paradosso che costituisce un grande problema democratico, poiché se la gran parte dei cittadini non capisce la scienza e la tecnica, finisce per subirle. E questo è un grande problema culturale, perché chi subisce senza capire, prima o poi si ribella in una reazione impulsiva che può diventare irrazionale. Di qui evitiamo a Pietro Greco e allo spirito di Fornì e a cercare di produrre un modello culturale teso all'unità del sapere, allenando lo spirito critico di noi tutti. Speriamo che questa sera, siamo di quei momenti, mi fa piacere citare Garmoren, di stimoli per delle teste ben fatte. E con questo vi do la parola a Claudio Casali che condurrà l'intervista che abbiamo previsto, che cerca di ripercorrere il filo dei temi esposti nel pubblico. Grazie a tutti per essere qui, soprattutto sono molto contento di vedere tanti giovani, stati studenti. Io sono molto onorato di essere qui in questa maestra, di aver conosciuto la senatrice Catania che mi ha chiesto di dare del tutto, quindi è un valore. Brevemente gli adulti penso che conoscano tutti la senatrice e quindi non ci sarebbe bisogno di documentazione, però per qualche studente forse è il caso di dire chi è la senatrice Catania. Io mi permetto di leggere una sintetica di biografia dell'autrice che è professore ordinario di paleontologia all'Università degli Studi di Milano. Dopo la laurea in farmacia ha anche preso l'attività di ricerca sulle cellule staminali e sulle malattie neurodegenerative, specificatamente la cobera di Milano. Ha lavorato per due anni nel BIT di Boston e è tornato a Milano e ha avviato il suo primo laboratorio all'interno degli impartenenti di scienze farmacologiche dell'Università di Milano dove dal 2003 è docente, direttrice del centro di ricerca sulle cellule staminali, in STEM, dal 2009 coordinatrice del progetto europeo in Euro STEM SEL, iniziato nell'ambito del settimo programma quattro della ricerca europea, è stata rappresentante nazionale presso l'Unione Europea per la ricerca genomica e biotecnologica e negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il premio alle scienze per la medicina e la metà dell'Università della Repubblica Cianti per gli studi presenti sulle cellule staminali. Nel 2006 è stata conferita la carica di camminare ufficiale della Repubblica Italiana e più recentemente si è impegnata attivamente nella ricerca scientifica schierato senza errore dell'impiego delle cellule staminali embrionali nella ricerca. Il 30 agosto del 2013 è stata nominata senatore d'Italia dal Presidente della Repubblica Giordina Puntano. Insegnata in un senato si è impegnata attivamente per affermare, si impegna ancora, dicendo qui di giù, non solo per passata ma anche in attualità, per affermare la centralità della scienza e del ricordo scientifico alle decisioni politiche e questo è una bellissima cosa. ha pubblicato nel 2016 il libro Ogni giorno tra scienza e politica e nel 2011 il libro appunto che presenta stasera Armandi di Scienza. Due parole proprio su questo libro per presentarlo. è un libro che si legge di un fiato, è un libro di 150 anni di strunfaglio, si trova anche di Booker quindi chi vuole comprenderlo anche in questo formato. È composto da sette capitoli agili con uno dei quali è un tema ben preciso. Ecco, chiaramente c'è un filo conduttore con i scelte di questi capitoli ma può essere detto anche a Sabati perché ogni capitolo è molto tematico quindi si può, anche se non si ha molto tempo diciamo, leggere un argomento e poi dopo gli altri leggerli con più calma. Ma la cosa più bella secondo me di questo libro è quello che dice la senatrice alla fine della introduzione, proprio le cucinerie. Perché la senatrice spera di, con questo libro, di stimolare, diciamo così, degli interessi, approfondimenti e dice chi volesse condividerli può farlo scrivendo e dare sull'indirizzo di posta elettronica. Ma la cosa più sorprendente è che dice subito dopo, li leggerò tutti e risponderò a ciascuno. E questo mi sembra una cosa bellissima. questo libro è proprio un libro più grande che tratta di argomenti sempre attuali e molto importanti. e io direi che in una scuola potrebbe essere anche un validissimo libro di testo di educazione civica, secondo me. Perché si parla di scienze, ma si va in campi vari, soprattutto si va nell'etica della scienza, si va nella socialità, nei diritti delle persone, dei singoli, dei gruppi e quindi fa riflettere su molti aspetti. per cui come dico, io come docente, ormai non lo so più, perché ho valorato in campo, però l'avrei consigliato, se non l'obbligato, diciamo, sui miei studenti, ma come vi dico, io non prenderei proprio anche come vedo in testa. Basta, io non voglio parlare altro, a questo punto però voglio stimolare perché noi siamo qui per aspettare la sematrice. e allora, visto che siamo in una scuola, ho pensato, la prima domanda che voglio fare è sulla scuola, partendo da alcune frasi che lei ha scritto nel libro. Ad esempio nel primo capitolo, dal titolo della scienza, una sola etica, un solo metodo, scrive, la storia insegna che quando la scienza costringe a confrontarsi con alcune convinzioni o con alcuni trattori, senza abituati strumenti di compressione, la paura, e quindi il rifiuto, diventa la prima difesa, scatta un riflesso istitutivo, di tipo positivo, che interpreta ogni novità come un potenziale pericolo. poi segue nel secondo capitolo e scrive, il metodo scientifico applicato allo studio di tutti i fenomeni reali è a mio avviso la chiave per l'inclinazione naturale, spesso alimentata da d'arte, da chi la usa, come faccia il strumento di consenso, che ci tiene prigionieri delle nostre paure, insegnandoci che il rischio zero o l'errore zero non esistono, ma che tutto si può arrivare a conoscere, trovando e esaminando dati e prove, rendendole pubblici, visibili, verificabili, ripetibili. Nulla può sfuggire se questo è il metodo, nemmeno gli errori, che una volta accertati potrebbero essere corretti e che saranno comunque sempre infinitamente inferiori, e sicuramente si passeranno. Allora, io ti chiedo, la scuola come può secondo te aiutare questi giovani a vincere questa ancestrale pericolo di tipo evolutivo che hai citato e come fare per aiutabili a percepire correttamente dell'apparato della scienza, che molto spesso invece è non ben compreso. Grazie innanzitutto di questo invito. Io posso alzarmi in piedi? No, la facoltà, grazie mille. Grazie davvero di questo invito e della vostra presenza, mi fa molto piacere. anche perché credo davvero che il modo migliore per crescere una società sia di frequentarsi, quindi di avvicinarsi, di comuncare. Insomma, ho l'impressione che tante volte si rimuovono le barriere semplicemente così, perché se non vedi l'altro hai sempre paura nel pensiero che sia un nemico. Giusto? Sempre un nemico. Siamo un po' trivani. Ecco la scuola cosa può fare. Io direi la prima cosa è creare questi spazi pubblici, questi luoghi inclusivi. e la scuola è soprattutto questa cosa qui, ovunque tu vada avrai gli strumenti o ti verranno dati gli strumenti affinché tu possa vantare il diritto e il dovere di essere incluso e magari aiutare anche quell'altro cammin facendo, quando arriverai ad essere sempre un po' più armato di quegli strumenti, aiutare quegli altri che resteranno un pochettino indietro. La scuola è il nostro spazio sociale e guardate che non si scherza con questi spazi. Io credo davvero che nella scuola si formino le nazioni e dove puoi formarle? Si formano le persone, poi si formeranno ciascuna in modo diverso, ma ciascuna verranno date gli strumenti affinché ci si possa muovere verso il cammino del domani e del mondo che frequentiamo. mi viene da dire con fiducia, non quindi come persone attrezzate o costruite intorno alle paure, al calendario lunare, ai riti sciamanici, no, ma ti vengono date strumenti per sollecitare le tue capacità cognitive. e ragazzi ce li abbiamo, ma ciascuno di noi, chiaramente dal più giovane al meno giovane qua dentro, ciascuno di noi è una persona che ha tutte le possibilità di capire, di ragionare e di decidere secondo un metodo. quindi mi viene da dire che la scuola è più identico, è questo spazio pubblico e nello spazio pubblico vengono dati gli strumenti uguali a tutti, devono essere dati a tutti, c'è un gap formativo, è in alcuni luoghi, per alcune persone, fa colmato, ma noi che abbiamo il privilegio di frequentare queste scuole, anch'io ho fatto il liceo scientifico, anch'io in una scuola pubblica, coloro che hanno la possibilità di frequentare questi spazi, insomma, sappiano che ciò che studiano, magari a caro prezzo, magari con la professoressa o il professore che ci striglia, che ci sprona, a studiare un po' di più, in realtà lo fa per darci quegli strumenti che, è vero, servono a capire il mondo, è vero, servono a darci sbocchi professionali, ma soprattutto servono a darci la consapevolezza di cosa vuol dire la dignità, il fatto di essere persone di una società che deve prendersi cura l'uno dell'altro, quindi è vero, no, la scuola ti dà strumenti per formarti te stesso come individuo, ma io ci metterai subito insieme l'aspetto sociale, cioè voi siete una classe, nelle scuole ci sono le classi, vero, le classi sono popolate da individui, ma sono le classi e ci sono tante classi, no, qui ci sono 1500 studenti, è una meraviglia, ti dà quindi gli strumenti per capire che di fianco a te c'è uno come te, non c'è il nemico e guardate che abbattere queste barriere da subito e continuare ad abbatterle è il primo aspetto straordinario formativo delle nostre scuole, il secondo mi viene da dire, e sono sicuro che venga attenzionato, implementato continuamente, è abituare i giovani ad ascoltare una voce meravigliosa, quella della curiosità personale, individuale, la passione, io ho proprio l'impressione che con la passione tu ma scali montagne, ma veramente, no, con la passione tu ti accorgi delle difficoltà dopo, dopo, se non hai la passione ogni cosa ti fermerà, ogni cosa sarà difficile, ma non vale, non vale per noi mettere lì la lista delle difficoltà perché noi siamo degli assoluti privilegianti, e quindi ecco, no, questo stimolo a sentire la voce della curiosità e della passione verso le cose che più ci interessano, è che è giusto che alcuni di noi saranno interessati al greco e al latino, altri saranno interessati alla geologia, altri alla storia, altri alla meccanica, ma il cuore pulsante è qua, è la curiosità, e guardate se spegniamo nel nostro cervello il circuito della curiosità e della passione, ma non c'è più niente, la curiosità e passione è quell'aspetto sociale, quindi il ricordarci che quella curiosità e passione di ciascuno di noi non sono calati nel vuoto, ma sono calati in un contesto culturale, sociale, noi siamo una società di essere che va avanti insieme, perché appunto in realtà però quell'istinto tribale ce lo portiamo dentro, ecco perché quindi la scuola ti aiuta anche a capire che noi in realtà siamo parti dello stesso mondo e dello stesso cammino. E poi forse il terzo elemento che la scuola può dare, potrebbe andare avanti per tanti, dopo mi taccio. Il terzo elemento dove forse si potrebbe calcare un po' di più, a me viene da dire, tu l'hai citato Pietro Greco che ci raccontava e ci spiegava ogni volta che la conoscenza, io non voglio dire la scienza, la conoscenza in generale non è solo un insieme di fatti, ma è molto di più di quello. E la scienza per me non è un insieme di risultati, è la storia delle persone che hanno sfidato l'ignoto in tutte le sue dimensioni. E guardate che ogni volta che penso, ma cosa vuol dire sfidare l'ignoto? È meraviglioso pensare che ci sono persone in tutti gli ambiti disciplinari, ma anche fuori, se ci pensate, ci sono tanti anche ambiti specialistici, no? Insomma, di persone che nei loro lavori sfidano e fanno qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. E così nella scienza sfidare l'ignoto significa andare a studiare una cosa che nessuno aveva mai studiato prima, che nessuno conosce. andare a sollevare una domanda che nessuno aveva mai sollevato prima, andare a fare esperimenti per rispondere a quella domanda che nessuno aveva mai immaginato prima. Ma come accidenti si fa? Come fai a studiare ciò che nessuno conosce? Ecco, secondo me la scuola, anche la comunicazione, anche il giornalismo, ma stiamo alla scuola. Penso che potrebbe essere ancora più incisiva se invece di raccontare solo il risultato, ecco, è straordinario, è il risultato, raccontasse le pagine prima, raccontasse la fatica di quelli che sono andati lì a studiare dove prima c'era il vuoto e raccontasse ma come hanno accidenti fatto a studiare quella cosa che nessuno sapeva e soprattutto come hanno fatto a resistere al fallimento, perché quando si va lì a studiare quella cosa lì, ma guardate che è difficile, è a volte traumatizzante ed è totalizzante, cioè tu non riesci a fare altro che a pensare a quella cosa lì. e tante volte anche io cerco quei miei colleghi scienziati che sfidano il pezzo più distante, la frontiera che si pongono alla frontiera più distante della conoscenza, perché guardate che studiare qualcosa vicino a noi è facile, relativamente facile, no? Un pezzo di ignoto un po' più frequentato, un po' più vicino a noi, ma quelli che vanno là, là dove c'è bullo. Io mi immagino sempre questa frontiera, la racconto così, no? La frontiera dell'ignoto, cosa vuol dire? Io mi immagino questi studiosi che sono lì alla frontiera e stando su quel bordo, no? Con una gamba appoggiata a un pezzo di terreno conosciuto, è l'ultimo metro però del conosciuto, e stando con quella gamba lì appoggiata sull'ultimo metro di conoscenza, ma l'altra gamba è nel vuoto, si può cadere, eh? L'altra gamba è nel vuoto perché sta cercando di aggiungere un altro metro e perché hai una gamba sul metro già conosciuto? Ma certo perché vuoi capire se quel metro è solido, vuoi capire se quel metro è vero, vuoi replicare i dati dell'ultimo metro per aggiungere un altro metro, ma guardate che lì sei proprio, sei proprio sul baratro. E allora ecco che la scuola potrebbe insegnare cosa vuol dire il coraggio di studiare, il coraggio di sfidare, poi le sfide noi le possiamo portare nei nostri diversi campi, ma cosa vuol dire resistere come esseri umani? Cosa vuol dire sviluppare quel coraggio? Io ho l'impressione che se raccontiamo delle innumerevoli storie di scienza, quelle pagine prima, riusciremo ad insegnare il coraggio. Il coraggio non c'è scritto nei paper scientifici, nei libri scientifici, non c'è, è qualcosa molto più, direi, umanistico, che ha a che fare con chi siamo, dove andiamo, qual è stata la nostra storia, qual è l'ambito che frequentiamo, come lo frequentiamo. A me piace capire quel coraggio dei miei colleghi che hanno sfidato l'ultimo metro e si sono posti appunto nell'ignoto. Mi piace cercare di capire quel coraggio, come hanno fatto come persone, perché ho l'impressione che se capisco quel coraggio forse lo posso sviluppare anch'io, per poi capire che è vero. Guardate che, pensate alla storia dell'uomo. Ma quante volte è stato in bilico con quella gamba dell'ignoto e l'altra gamba sull'ultimo, ma quante volte, e quante volte ce l'abbiamo fatta? Guardate che se chiudiamo gli occhi e avessimo la possibilità di scansire con la nostra mente il percorso dell'uomo, ma come fai a non, dell'uomo che scopre, dell'uomo che cerca di conoscere, ma come fai a non sviluppare la fiducia verso le persone che studiano, verso il metodo della scienza che indaga, non secondo un principio di autorità, non è che per te sei professore ordinario, senatrice a vita, allora la tua idea sarà quella giusta, neanche persone, il principio di autorità vale zero. fangono le idee, sei lì all'ultimo metro, ecco ti viene quest'idea, un'idea che nessuno ha mai avuto prima, la discuti con gli altri, è sempre un lavoro di squadra, bellissima la squadra, si impara a lavorare in squadra, e poi appunto ti innamori della tua idea, ecco il metodo, comincia ad entrare in movimento, c'è un'idea, una domanda, la domanda è importantissima, eh, e nella scienza valgono solo le domande che possono essere sperimentate, giusto? Per rispondere alle quali puoi mettere in campo una serie di esperimenti che ti dirà sì o no alla tua ipotesi. La domanda qual è il sesso degli angeli, non è, non ha nulla a rifare con la scienza, giusto? La domanda se i raggi cosmici entrando attraverso la punta del cordo di una vacca possono imprimere le forze eterico-astrali nell'etame degli intestini di quella vacca, così che il suo letame poi potrà essere più fertile, no? Quando distribuito sui campi non ha niente a che venire con la scienza, ahimè, cito questo, perché questa storia stava ed è mezza entrata in una legge del pubblico italiano, ne parliamo, se volete, no. La scienza si occupa di immaginare le domande più difficili, per le quali sia possibile sviluppare degli esperimenti e poi tu che hai avuto quella domanda e quell'ipotesi e quell'idea sarai chiamato al bancone di laboratorio per mettere in campo tutti gli esperimenti che riuscirai a immaginare uno dopo l'altro per capire quanto vale, quanto regge la tua domanda e guardate che quegli esperimenti, tante volte per fare gli esperimenti devi anche sviluppare gli strumenti per fare gli esperimenti e guardate che tante volte quegli esperimenti non durano un giorno, non durano mai un giorno, neanche una settimana, neanche un mese, durano anni e la cosa straordinaria di questo metodo sapete qual è? Tu devi essere terzo, giusto? Terzo e competente. competente. Sì, ti puoi innamorare della tua idea, tutti lo facciamo, tutti siamo convinti di aver ragione anche perché se no, però ecco che nella scienza, questa è la cosa forte del metodo, tu sei obbligato a portare la tua idea al bancone di laboratorio e non importa quanto tu abbia amato la tua idea, tu dovrai accettare i risultati che verranno fuori da quel bancone di laboratorio e non avete idea di quante volte nella mia vita ho fallito, chissà quante altre volte fallerà, il fallimento è buono perché vuol dire tieni con quella gamba nel vuoto, altrimenti appunto se non fallici mai è perché ti collochi con le tue gambe sono un pezzo ben solido, a me piace la scienza di frontiera e chiesto che quella sia la scienza da perseguire. Non avete idea di quante volte, io ho sempre questa immagine, il semaforo del bancone di laboratorio si è illuminato di rosso? Succede come? Magari per anni? e quando succede ci senti male, soffri, se sei responsabile di un gruppo di ricerca ti senti anche, tra virgolette, colpevole di aver portato un gruppo verso una strada sbagliata, però non lo sapevi a priori che era sbagliata, il metodo non ti garantisce né che la tua idea per quanto tu l'abbia amata ci porterà nella direzione giusta, né che sia la direzione sbagliata, c'è un metodo di questa cosa qui, quando parti devi attrezzarti, armarti bene, poi cammini e non puoi garantire a nessuno il traguardo, saresti falso a garantire a un malato e studierò questa cosa e ti porterò alla cura, sarebbe sbagliato, sarebbe un inganno. Questo metodo può garantire però una cosa che se ci pensiamo io credo che sia fenomenale ed è l'assiduità, è l'assiduità di continuare a studiare, l'assiduità di continuare a ricercare se quel pezzo di frontiera non è quello giusto, ok, ingoieremo il rosco, il semaforo si è illuminato di rosso, ci sposteremo un po' più in là, ci sentiremo nel cestino, è sicuro, non so quanti giorni, quanto tempo, eccetera, ma il giorno dopo saremo pronti a riaprire le porte dei laboratori, dei nostri laboratori e tutti noi rientreremo di nuovo con quella passione e con quella curiosità che tante volte ci fa sentire come se quello fosse il giorno in cui di nuovo partiremo per la luna senza magari nemmeno sapere dove la luna è, no? e se c'è una luna che è al traguardo, quindi però ecco succede a volte che tu sei in laboratorio e dopo anni di esperimenti, di sofferenza e di fatica il semaforo si accende di verde, si illumina di verde e beh, in quel momento tu sei il primo uomo o la prima donna al mondo a vedere quel risultato si cammina un metro da terra per un po', poi ci siamo ancora di nuovo a terra perché c'è il prossimo passo da fare e ovviamente se lavori nell'ambito della biomedicina, insomma, ti rendi conto che quel risultato è un pezzo di strada fatto verso la direzione di una cura verso la speranza per persone che quella speranza non possono più darsela da soli e come fai a non aver fiducia? quindi scusate, l'ho raccontata, l'ho fatta un po' lunga ma vedete io non vi ho ancora parlato di un risultato, probabilmente lo so, non lo faremo, vedremo ma tutta questa parte prima, le persone che studiano, le persone che si impegnano le persone che mettono in campo no, quella assiduità e che lo fanno no, senza aver garanzia che ci sarà qualcosa ma guardate che è pazzesca e poi quando ci sarà quel risultato, ecco che diventerà come hai detto pubblico di tutti visibile, verificabile però a me piacciono queste pagine prima dei risultati mi piacciono veramente e la chiuderei così, queste pagine prima la chiuderei dicendo che raccontare queste pagine magari possiamo raccontarle dopo qualcuna perché ci sono delle storie pazzesche da Rita Levi Montalcini a Cati Caricò che non so se sapete che noi siamo qui grazie a lei, questa donna ci sono tante storie di donne di scienza, Cati Caricò è quella che ci ha permesso oggi di essere qui è la persona più di tutti gli altri che ha fatto i passi per arrivare al vaccino ad RNA, no, di cui tutti noi siamo beneficiari quindi queste pagine prima secondo me raccontano due cose la prima raccontano che gli scienziati e gli studiosi di qualsiasi ambito disciplinare per quanto geniali possano essere alla fine anche loro falliscono anche loro sbagliano anche loro faticano anche loro soffrono alla fine sono uomini e donne come tutti noi quindi buttiamo giù un muro all'idea che quello sia il geniaccio per me inavvicinabile che fa cose per me incomprensibili non c'è niente nella scienza che non possa essere spiegato a un giovane, a un cittadino, a un politico e se non viene spiegato c'è un problema dalla parte della scienza quindi uno mi viene da dire guardando a quelle pagine di questi studiosi che si ingegnano è che sono come noi non sono un gruppo a parte e due mi viene da dire guardando comunque a quello sforzo conoscitivo che mettono in campo che mi entusiasma però mi interessa, mi entusiasma lo sforzo più che i risultati comunque sono bellissimi guardando a questo sforzo conoscitivo c'è un altro messaggio che la scuola può insegnare e cioè davvero la consapevolezza di quello che uomini e donne riescono a fare di quello che uomini e donne riescono a capire di quello che dei vari gradini che riescono a scalare uno dopo l'altro nella scala della conoscenza nessuno ci può fermare quindi se impariamo il metodo ma noi domani saremo ancora un pezzo più in là avremo un pezzo di mondo più conosciuto se ci sarà un pezzo di mondo più conosciuto avremo meno paure avremo meno nemici avremo più democrazia perché conoscere significa oggettivare dire questa cosa la conosco così e quindi almeno su quella cosa lì non potremo più confliggere ecco perché più più scienza tanti studiosi ci spiegano più democrazia perché la scienza ti permette proprio di oggettivare gli argomenti su cui molto spesso confligiamo quindi in sintesi mi faccio veramente questi questi punti di cui forse l'ultimo questo del raccontare le pagine prima come va chi sono questi scienziati che facciano perché poi le scoperte tante volte soprattutto nel nostro paese ci vengono raccontate come rivelazioni compiute cioè come se tu schiacci in un jukebox tu schiacci e viene fuori quindi adesso ci sarà il vaccino tu schiacci e scienza ci devi dare il vaccino domani abbiamo tu schiacci e deve venire fuori la soluzione ma non è così e se c'è questa percezione di una rivelazione compiuta ma c'è anche forse un'errata immagine di qualcosa di oracolare di magico no invece no è fatica è fallimento è disperazione poi però ci si aiuta nel lavorare in gruppo quindi insomma queste pagine sono stupende e lì si scoprono le persone si scoprono le storie guardate vostre di tanti di voi io sono sicura che ci sono qui dentro con una scuola così preparata con questo spazio così meraviglioso che sa creare io sono sicura che qui dentro ciascuno di voi giovani anche meno giovani ma mi riferisco soprattutto ai giovani ha dentro quella fiamma e liberatela date ossigeno seguite passione entusiasmo curiosità non dovete avere paura del fatto che siete uno solo no Rita Levi Montecini era una sola Kate Caricò era una che poi via via ha incluso aggregato ci sono tante altre caratteristiche che poi portano le persone a creare questi movimenti di scienza ma insomma sono sicura che con la formazione che avete qui avrete tante bellissime pagine da scrivere anche voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti quella di raccontarla che sono capaci tutti che la leggono e poi te la raccontano non è questo che deve essere a scuola ma non è questo che deve essere una necessità di amici nella scuola e quindi ci vuole questo amore anche nell'insegnamento nella trasmissione di queste conoscenze la professoressa mi ha spiazzato perché ti avevo preparato altre domande ma tu hai già risposto senza dire quindi io non sapevo le domande esatto non lo so che parlare quindi è autorizzata e l'appeto per questo però questo amore della ricetta mi ha fatto un rinvento su questa mi ero preparato perché mi sembrava che dovesse essere anche doveroso di parlare proprio della tua esperienza della Corea di Anglietto e ho scelto queste parole poi ti spiego perché è tratte dal capitolo 6 del libro è il capitolo che si intitola La scienza oltre i confini del laboratorio la scoperta è arrivata dopo 15 anni di intense ricerche dal Venezuela alla Colombia persone affette da questo strano ballo perpetuo avevano donato il sangue agli studiosi e al mondo una conoscenza in più e grazie a loro che noi oggi in occidente abbiamo il riconoscimento della parattia di test medico farmaci sintomatici e una strada verso la terapia ma in Sud America loro continuano ad essere indemnati di una parabola di vita confinata alla sopravvivenza quotidiana quando ho letto queste parole mi sono convosso veramente perché è veramente un'ingiustizia sociale questa queste persone ci hanno permesso di arrivare a questi risultati ma non ne beneficiano vengono sempre emarginanti come è venuto a pensare anche l'esperienza personale in vita personale di passato e poi succedeva anche da nuovo poi non è non bisogna poi andare troppo lontano perché le cose noi siamo pieno una parte fortunata perché noi abbiamo attraversato questi momenti quando le persone che si dimostravano un pochino strane perché avevano qualcosa che lamentava al tempo del novecento bastava un semplice esaurimento nervoso per essere chiusi in manicomio perché si era mati e le famiglie venivano immaginate come adesso esattamente succede in Colombia in questa situazione eccetera e quindi mi sembra che queste parole chiamano un caos anche sì la ricerca e trovare delle soluzioni ma anche il dovere di condividere questa ricerca con tutti e fare in modo che tutti ne possano affiggiare anche queste persone e so che tu hai organizzato anche dei conveghi e sei molto attiva in questa ricerca di equità sociale ecco perché prima dicevo che questo testo può essere utilizzato non solo nell'ambito della scienza ma anche dell'educazione scientifica cioè nel rispetto dell'altro nella società ci vuoi parlare di questa cosa che è molto bella secondo me mi sa che sei finito perché io adesso inizio a parlare fino a tra l'ora e mezza ma noi ti ascoliamo per te mi tocchi nel mio nel mio cuore perché su questa malattia su questa malattia io dedico la mia vita a questa malattia a questi malati sempre per i più giovani se volete sapere perché a un certo punto come fai a scegliere anche molti giovani come faccio a scegliere dove andare cosa fare cosa studiare io devo sempre lasciare che sia il cuore la passione la curiosità qualsiasi cosa sarà importante e bella se la farai in modo onesto trasparente eccetera e poi ci sono lungo il cammino di ciascuno di noi giusto dei piccoli lampi qua e là lungo la nostra strada allora tu guardi lì o guardi da un'altra parte e insomma è interessante farsi cogliere quindi andare a guardare non girarsi dall'altra parte e io ero una giovane avevo stava giovanissima ricercatrice all'MIT a Boston ovviamente avevo già deciso sì che mi interessava alla ricerca ma è stata una decisione graduale è stato un avvicinamento graduale io non avevo scritto quando sono nata che sarei diventata professore e divoriamoci se una feccia vita totalmente inaspettato è stato un avvicinamento graduale quindi sì è vero ci sono alcuni che nascono che sanno già cosa saranno io anzi forse non ho ancora deciso non so posso ancora cambiare idea no io lo rivedo questa possibilità e mi sono via via avvicinata poi ho deciso di andare all'estero sono andata all'MIT e mi ricordo il mio capo di allora Ron McKay che mi disse aveva una donna straordinaria vedi andare ad ascoltarla a fare un seminario questa donna era Nancy Wexler che insomma aveva scoperto di essere a rischio di ereditare il gene della Corea di Huntington perché la mamma aveva cominciato a mostrare i sintomi così tra i fratelli della mamma esattamente come il nonno Corea di Huntington Corea vuol dire danza dal greco c'è un gene che passa di generazione in generazione quando c'è quel gene mutato ahimè la malattia verrà e lei si trova Nancy negli anni 70-80 ad avere a capire di avere questo rischio di avere ereditato il gene malato e quindi pensate da zero il valore delle singole persone lei una persona decide di impegnare la sua vita sulla malattia la prima decisione è bisogna creare una comunità di studiosi che studi questa malattia prima di lei per dire sì le singole persone fanno cose che sono sempre dei piccoli o grandi cambiamenti vogliamo anche noi essere parte di queste persone che fanno delle cose importanti per gli altri io mi ricordo ero gli Alemaiti in quest'aula Revoleli con questi capelli biondi mi ricordo la luce dei suoi capelli era biondissima chiara lunghi dritti bellissima donna sui 50 anni genetista quindi lei aveva già cominciato a studiare non mi ricordo in quest'aula dell'MIT lei cominciò a parlare quindi di essere a rischio della malattia di aver avviato anni prima di essere andata in giro per il mondo immaginatela questa donna che va in giro per il mondo a cercare di convincere i migliori scienziati del mondo i migliori gentisti da allora a unirsi alla sua battaglia per trovare il genere responsabile della malattia di Huntington cioè nessuno ti insegna a essere questo tipo di scienziato cioè lo scienziato è una persona che parla con gli altri che comunica che include cioè lei riuscì a convincere questi genetisti guarda i licenziati non sono persone facilissime non sono persone alle quali tu puoi andare a dire guarda insomma quello che fai fa schifo non è importante vieni unisciti alla mia battaglia e lei convince questi genetisti io lo dico ho spesso la diapositiva di lei lei convince questi genetisti con i baci e gli abbracci con la sua empatia con la sua carica umana cioè lo scienziato non è un robot non è un Frankenstein per favore non è nemmeno un robot è una persona e in quella sala all'MIT era il 1990 89 e con me bastò un abbraccio e io cominciai a studiare la malattia per lei pensate nella vita tanto ciascuno di noi fa per gli altri magari anche consapevolmente e mi ricordo in quella sala una frase sua che mi folgorò lei a un certo punto disse sono andato in giro per il mondo a cercare scienziate che si unissero alla mia battaglia e ho detto loro immaginatevi la sala dell'MIT metà premi Nobel l'altra metà futuri premi Nobel e dice questa donna con i suoi capelli di onde che a un certo punto dice ho detto loro l'esco tu Venezuela e a me sembrava quasi irriverente il coraggio di questa donna di spiegare e giustificare come aveva convinto questi scienziati dicendo loro l'esco tu Venezuela Venezuela ma perché Venezuela e come fai a dire a quell'audience non è che li ho convinti con la bellezza di questo pensiero scientifico di questo esperimento scientifico li ho convinti con l'umanità e la mia convinzione e l'esco tu Venezuela perché lei aveva letto questo libro di un medico che viveva in quei villaggi del vicino al lago Maracaibo in Venezuela e quel libro descrivevano questo medico scrive questo medico sì le prime volte che sono arrivato in questo villaggio sono queste parole e ho visto queste persone che barcollavano per strada e mi annoiavano proprio ci ha scritto mi annoiavano io ero un medico mi annoiavano queste persone questi giovani che barcollavano e l'ho detto al mio amico che camminava con me ah che noia questi giovani poi cadeva si rialzava ah che noia no vedere che fastidio vedere queste persone ubriache e questo compagno di camminata gli dice no caro dottore non sono ubriache sono dei sanvitero sono delle persone che hanno il ballo di sanvito sanvito è il patrone il santo dei ballerini dei danzatori e la danza no ecco quindi leggendo quel libro Nancy si accorge che ci sono dei villaggi in quella zona del mondo pieni di malati di antito e possiamo capire perché lo stigma la discriminazione hanno allontanato queste persone dalla società hanno cominciato a sposarsi tra loro famiglie con dieci figli quindici figli il gene ha trovato campo libero per la sua propagazione quindi Nancy l'ha scutto Venezuela perché ha portato europei canadesi americani in Venezuela in quegli anni i rapporti tra le nazioni sono tante volte facili ma la scienza va va quindi si disinteressa dei conflitti delle frizioni degli antagonismi mette insieme le persone che hanno idee per andare su quel luogo sconosciuto senza conoscenza in quel spazio geografico tragico che è tragico ancora oggi dove non c'è niente solo polvere strade impolverate non c'è cibo non c'è acqua c'è malattia non ci sono farmaci non ci sono farmaci non c'è neanche un aspirina non c'è un antidepressivo ed essi racconta quest'audience alle MIT insomma di questi viaggi che cominciano ad andare lì queste persone questi studiosi pensate questi abitanti che per la prima volta vedono un canadese o un americano pensate a conquistare la loro fiducia e fanno e cominciano quindi lì a conquistare la fiducia ricostruiscono l'albero genealogico loro di tutta quella discendenza di quella parte del Venezuela anche sul confine con la Colombia che riescono a costruire un albero genealogico quindi di rapporti familiari alle famiglie eccetera che include 18.000 includeva 18.000 individui e sono persino arrivati all'ancestore pensate la scienza che va persino andare indietro e l'ancestore è stata questa donna Maria Concepzione Soto Soto che visse lì nel 1800 aveva la mutazione e ha creato lì quella genealogia che si è esplosa e si è espansa perché lì si sono sposati tra loro e perché facevano ovviamente tanti figli questo però Nancy si accorse significava anche che quello era quella era la genealogia e l'ambito giusto in cui andare a cercare il gene di una malattia rara per trovare soprattutto a quei tempi il gene di una malattia rara tu devi avere una grande genealogia arrivarono là e cominciarono a fare gli spedimenti e uno si chiede sì ok va bene hai lì tanti malati e sai che il gene è dentro di loro ma come lo trovi come lo trovi un gene che è un pezzettino microscopico di questo nostro DNA che è lungo due metri giusto lo sapete che se sfilassimo il DNA dalle nostre cellule ogni cellula contiene due metri un filo di due metri di DNA che non si fa a stare dentro questo filo dentro ciascuna di queste nostre cellule guardate che chi di voi scoprirà come questa è una bellissima domanda è straordinaria pensate a quante implicazioni a quante insomma come fai a trovare quel gene se invece dei due miliardi pensiamo alle lettere che formano il DNA quindi i nucleotidi sono invece dei due metri pensiamo alle lettere sono tre miliardi giusto ok come trovi il gene che magari è 50.000 lettere in tre miliardi di nucleotidi e soprattutto dove trovi il coraggio per andare lì e cominciare a pensare e cominciare a fare e hanno avuto un'idea grandiosa straordinaria perché tu devi immaginare sai che è dentro lì ma come lo scopri non riesco a spiegarlo qui ma ho la tentazione di farlo però non lo faccio ci sono riusciti a trovare quel gene ci ha messo 13 anni 13 anni hanno scoperto il gene malattia noi abbiamo tutti i benefici di quella scoperta noi abbiamo il test genetico il riconoscimento di malattia farmaci sintomatici le nuove sperimentazioni cliniche che utilizzano dei farmaci a base di DNA per cercare di silenziare quel gene una delle strade strepitose nelle malattie genetiche dove c'è un gene mutato che fa qualcosa di tossico nel caso dell'Huntington uccide i neuroni del nostro cervello per questo ci sono tutti questi problemi una delle strade stratosferiche sviluppate è quello è una strada che porta a creare il laboratorio dei pezzettini di DNA omologhi uguali più o meno uguali al gene che vuoi incriminato e che vuoi silenziare questi noi li chiamiamo in gergo scotch molecolari agenti silenziatori sono dei pezzettini di DNA che riconoscono solo il gene Huntington solo il gene malato si appiccicano come sono molecolari perché sono a base di si appiccicano non solo lì non negli altri parte del genoma se no sarebbe una tragedia si appiccicano e cosa fanno spengono il gene cioè impediscono al gene di creare di produrre la proteina quindi il gene è ovvio che è dentro qui nei nostri neuroni nei neuroni della persona con malattia ma è reso innocuo quindi noi abbiamo già in sperimentazione clinica in questa parte del mondo le prime strategie a base di questi agenti silenziatori loro lì loro lì non hanno veramente niente ovvio che questo non è la prima volta ci deve però interrogare non basta dire non è la prima volta succede sempre così succederà ancora per girare le spalle e non fare qualcosa quindi qualcosa stiamo cercando di fare uno degli esperimenti credo il più bello della mia vita è stato quello di organizzare una migrazione di queste persone dal Venezuela dal Colombia dal Peru dai loro luoghi fino a Roma dal Santo Padre in un'udienza dedicata a loro fu maggio 2017 e queste persone che non avevano che non erano mai uscite dai loro villaggi che non avevano mai visto un ascensore prima in vita loro e cito l'ascensore perché quando arrivarono a Fiumicino mi perderono negli ascensori perché non sapevano cosa fare questo per darvi l'idea ma fu straordinaria quella settimana a Roma con loro io avevo in carico 150 di loro arrivarono circa 2000 organizzando tutto non avevano passaporte non avevano niente non avevano neanche una borsa di plastica per mettere dentro stracci ma veramente niente organizzando tutto per tutte queste persone ecco e vederli lì in prima fila no? queste persone vederli indemoniati no? abitati perché questi movimenti già nella storia ma ancora oggi li porta sempre ai margini no? sempre portati ai margini della società vederli in prima fila davanti al Santo Padre beh fu un momento straordinario fu un momento anche di grande commozione no? perché insomma avevamo capito avevamo l'idea che forse molti di loro con quei loro movimenti in quell'aula enorme non li avremmo più rivisti no? quindi la paura di perderli la paura no? che questi figli che avevano teso si potessero interrompere frammentare invece guardate quel momento in quell'aula fu davvero la celebrazione dell'umanità della forza della conoscenza e della bellezza di poterci aiutare l'uno con l'altro poi ovvio che loro sono tornati nelle loro case nei loro villaggi impolverati nella loro assenza di tutto ma non della malattia famiglie come questa signora che vedrò tra poco perché tra poco vado in Colombia lei arriva da El Difisil nome interessante in Colombia questa signora Dilia 80 anni 11 figli 9 con la malattia ma tu come sopravvivi? dove trovi il coraggio? beh posso dirvi che Dilia arrivò qui con la figlia sana ma quasi a incitarci a trasferire fiducia a noi con la sua serenità e dicevo questi figli non sono affatto interrotti abbiamo messo in piedi soprattutto un mio collega un ente no profit si chiama Factor H Fattore H Huntington che a base a Los Angeles raccogliamo fondi e facciamo di tutto per loro compreso cercare di farle avere farmaci per le attraverse non è facile fare tre cose in Venezuela andare a trovarli due persone nel laboratorio sono andate in Venezuela due anni fa proprio prima della pandemia andare a trovarli per insomma definire alcune cose per farli sentire insieme che noi siamo insieme quindi questa storia non è affatto derrotta questa storia continua loro sono parte della nostra vita sono parte non solo dei nostri esperimenti ma della nostra vita e non c'è nessun motivo per escluderli e appunto quell'esperimento che ha creato così tanto e che continua è un lato inaspettato ma perché no importantissimo della scienza perché non c'è davvero nessun motivo per escludere l'aspetto umanitario la scienza ma la conoscenza in generale è solo dal mondo c'è un po' grande possiamo insomma in questo mondo ci siamo tutti e l'ultima cosa che voglio dirvi riguardo a questa malattia è che è che ci ha fatto scoprire abbiamo scoperto un sacco di cose totalmente inaspettate e ve la direi così questi sono veri risultati che abbiamo pubblicato che sono sotto gli occhi indagatori di tutti ok vi ho detto che c'è un gene impazzito e questo gene mutato causa la malattia di Arlington e pensate che nel 1915 i primi articoli terribili che descrivevano questa malattia li descrivevano con l'intento di promuovere una propaganda sociale che voleva spingere le società a isolare gli imperfetti coloro che erano che avevano qualche malattia incluse ci sono molti articoli proprio che associano la parola Huntington alla parola eugenetica quindi l'idea che la società debba migliorare il proprio stock genetico sterilizzando gli imperfetti quindi ecco che comincia questa propaganda sociale che poi ha il tragico esito sotto il nazismo la famosa terribile action t4 per cui sulla base di quel decreto in epoca nazista insieme ai milioni di ebrei finirono nelle camere a gas anche persone con malattie genetiche quindi quella incluso l'antento era una delle nove malattie per cui c'era questa destinazione quindi vedete e perché c'è questa cosa perché c'era l'eugenetica quindi l'idea che questi fossero imperfetti queste persone fossero imperfette e dovessero essere eliminate allora questo succede quando non c'è conoscenza quando non c'è conoscenza gli uomini e le donne possano andare veramente verso tragiche direzioni ed essere molto pericolosi per altri uomini e altre donne questo succede quando non sai l'altro nemico è l'altra tribù è l'immigrato che viene a rendere il nostro lavoro quindi questa e guardate che ci sono degli esperimenti ma vi cito dopo se c'è tempo che ci dicono davvero quanto male ragioni il nostro cervello tu l'hai citato che ci fanno vedere l'altro come un nemico quindi pensate in quegli anni gli Huntington erano insieme a tanti altri nemici imperfetti da eliminare poi arriva Nelsi e Nelsi accende la luce della scienza e dice lì c'è un gene da studiare lì c'è un gene da capire non c'è pazzia le streghe di Salem bruciate sul rogo non si pensa in base a alcune ricostruzione storiche che avessero l'Huntington non che fossero indemoniate ma vedi sta parola indemoniate quando non sai non sono indemoniate e anche oggi pensate quante volte magari camminando anche noi per strada e magari incrociando qualcuno che barcolla diremmo una persona drogata una persona ubriaca e invece c'è un problema biologico sempre c'è un problema biologico ma pensate appunto in quegli anni addirittura l'eliminazione di persone con delle varianti genetiche poi arriva Nancy comincia a studiare arrivano tanti altri studiosi dopo un po' arriviamo noi e cosa ci mettiamo in testa di studiare ci mettiamo in testa di studiare il gene giusto certo se vuoi studiare la malattia devi studiare il gene ma non studiamo solo il gene malato studiamo il gene sano nel mio laboratorio si studia anche il gene sano che anche voi avete anch'io ce l'ho quel gene lì e quel gene sano differisce dal gene malato per una cosa il gene sano che noi tutti abbiamo ha un numero di triplette CAG ripetute una dopo l'altra CAG sono le lettere i nucleotidi del DNA CAG CAG uno dopo l'altro nel gene anti un ton sano sotto le 35 ripetizioni siamo sani per quel gene io posso averne 20 tu puoi averne 22 lei può averne 30 siamo tutti sotto i 35 il gene malato è sopra i 36 pensate la malattia è un pugno di CAG in più e stiamo studiando perché cosa fai ma mi interessa a noi in questo momento io vorrei sapere e sono sicura che via via che ci avviciniamo sono sicura che questa domanda viene anche a voi ma perché abbiamo sto gene in corpo perché ce l'abbiamo nella versione sana visto che se va sopra le 36 può causare la malattia perché l'evoluzione non l'ha eliminata è una bella domanda e perché non solo non l'ha eliminato ma mi viene da dire perché noi siamo variabili per il numero di CAG che abbiamo nei gene antin siamo variabili come popolazione umana tra 9 e 35 no? vi ho detto che fosse averne 20 25 3 perché non siamo tutti con 22 CAG o 15 o diciamo perché non siamo uguali pensate a quante domande e se ci pensate non ha a che fare al momento con la malattia ma ha a che fare con capire il perché vedete che bisogna studiare il perché se capisci il perché poi puoi arrivare ad applicare ma prima capisci il perché ebbene sono due le domande quindi perché abbiamo il gene in corpo e perché siamo variabili come numero di CAG c'è qualcuno a cui viene in mente qualche idea su come studiare perché abbiamo il gene in corpo da dove arriva qualcuno che vuole azzardare qualche pensiero vai provare questo d'accordo questo lo possiamo fare oggi nel mio corpo e ti dico già è una bella domanda lui è giusta è giusta lui dice per rispondere perché ce l'abbiamo in corpo devo capire se ha una funzione quindi io lo tolgo il gene vedo che hai perfettamente ragione infatti si scopre che questo gene è importantissimo per lo sviluppo per le nostre funzioni anche cerebrale quindi si questo gene è importante nei mammiferi se lo togli al topolino il topolino non si sviluppa ovviamente non possiamo toglierlo agli umani il gene sano facciamo però andiamo un po' più a fondo adesso che abbiamo capito che questo gene ha delle funzioni sano ha delle funzioni importanti nel nostro corpo mi viene da dire da dove arriva e soprattutto da dove arrivano i C.A.G perché potremmo avere il gene senza i C.A.G che ci fanno questi C.A.G sono i C.A.G che ci disturba che ci fanno questi C.A.G come fai tu dimmelo a studiare da dove arrivano i C.A.G cosa che faccio siamo in laboratorio ci stiamo torturando io vorrei capire perché ci sono i C.A.G in questo gene che abbiamo capito è importante mi interessa però i C.A.G di questo gene sì è vero ci sono altri C.A.G nel genoma ma mi interessano i C.A.G in questo gene perché sono i C.A.G di questo gene che quando espandono causano malattia giusto siamo in questo frangente vi dico la risposta beh insomma per capire da dove arriva il gene e da dove arrivano questi C.A.G puoi fare una cosa semplicissima che è guardare indietro nell'evoluzione giusto ti volti indietro e dici ok vediamo un po' le specie che via via si sono evolute se c'hanno il gene se c'hanno i C.A.G e cosa scopriamo il primo sguardo indietro è stato a un miliardo di anni fa e sì in laboratorio possiamo studiare le cose che sono successe un miliardo di anni fa lo possiamo fare anche in altri ambiti giusto nell'astronomia nell'astrofisica che è stato lo studio del Big Bang e possiamo risalire a una specie che è nata che è comparsa sulla Terra circa un miliardo di anni fa che si chiama Dictiostilium Discoideum è un'ameba è il primo organismo pluricellulare che compare sulla Terra ok guardiamo all'ameba primo organismo pluricellulare e scopriamo guardiamo all'ameba perché abbiamo scoperto che quello è il primo organismo ad avere il gene Huntington pensate il gene Huntington compare uguale al mio simile al mio compare circa un miliardo di anni fa in questa ameba organismo pluricellulare tu sai cosa c'è prima dell'ameba prima degli organismi pluricellulari ci sono puricellulari puricellulare il lievito il lievito non ha il gene compare sulla Terra il primo organismo pluricellulare guarda caso ha il gene Huntington e ti dico di più se togli il gene Huntington sano è sano all'ameba l'ameba non forma non si forma con l'organismo pluricellulare resta cellule sparse pensate che l'ameba possiamo anche definire l'ameba il diptyostilio discudeo come la prima società giusto di individui insieme giusto perché prima i signori e le signori lievito ogni persona lievito era una cellula e ognuno faceva i fatti suoi il dipty invece è pluricellulare è uno perché è molto più funzionale come organismo pluricellulare può muoversi molto velocemente verso terreni ricchi di batteri di cui si nutre il primo organismo pluricellulare e c'è il gene Huntington ecco perché diciamo che il gene Huntington è un gene sociale favorisce la socialità interessante dai curiosa filosofeggiare un pochettino molto bene quindi allora abbiamo datato la comparsa del gene Huntington nella meba un miliardo di anni fa però poi guardando bene al gene Huntington nella meba scopriamo una cosa non ci sono i CAG quindi possiamo dire che quando il gene nasce nasce innocente non ci sono i CAG allora scusate andiamo avanti a cercare di ricomporre la stolla dalla meba a noi perché noi i CAG li abbiamo giusto ebbene dopo il Dicti l'evoluzione si divide in due rami da una parte i protostomi gli insetti dall'altra i deuterostomi noi mammiferi scimmie un po' più sotto gli uccelli eccetera eccetera no quindi protostomi e deuterostomi e siamo andati a caccia di varie specie per cercare di costruire ricostruire l'evoluzione del gene cosa scopriamo guardiamo i protostomi abbiamo analizzato il DNA di molti insetti il gene c'è ma non ci sono i CAG e allora immediatamente capisci che la storia dei CAG è una nostra storia non una roba a caso e allora ti viene da dire ok va bene quindi è una storia del ramo dei deuterostomi ma dove comincia la storia è una storia stile Sherlock Holmes dove comincia la storia ma la scienza è così dove comincia la storia dei CAG nel ramo dei deuterostomi dove comincia beh abbiamo cominciato a guardare alle specie più basali giusto del ramo dei deuterostomi sai qual è sapete qual è la specie una delle specie più antiche più basali del ramo dei deuterostomi è una cosa che mangiamo e ci piace tantissimo è il riccio di mare il riccio di mare è quello della pasta asciutta quindi cosa abbiamo fatto siamo andati in pescheria abbiamo comprato un po' di riccio di mare siamo andati in laboratorio abbiamo estratto il DNA per vedere se c'era il gene antinto c'è e per vedere se per caso lì comincia a comparire qualche CAG sì lì compaiono due CAG esatto prima non c'erano il CAG nel DICT si divide di qua niente di qua basalmente caspita ci sono due CAG nel gene antinto e mica sono messi a caso nel gene antinto sono messi esattamente nello stesso punto dove trovi CAG nel tuo gene potete immaginare che questo è stato forse un esperimento dell'evoluzione no che schiaffa modifica DNA così un po' come gli pare e poi i performanti sopravviveranno e dove c'è funzione verrà mantenuta la modifica insomma il riccio di mare compaiono nel gene antinto del riccio di mare i due CAG esattamente lì alla diciassettesima posizione della tripletta no diciottesima tripletta ci sono due CAG e il riccio di mare è fantastico non solo perché è buonissimo con la pasta asciutta ma anche perché è la prima specie è la storia delle prime volte ad avere un anello di sistema nervoso molto primitivo il DICTI non ha sistema nervoso e non ha CAG il riccio di mare ha un abbozzo grezzo di sistema nervoso e guarda caso c'ha due CAG se sei un biologo in laboratorio davanti a questi risultati impazzisci perché cominci a dire ma vuoi vedere che questo ha a che fare con la comparsa e magari e o l'evoluzione dei sistemi nervosi e allora siamo andati avanti nella storia siamo andati a caccia di ampiosi di zebrafish abbiamo chiesto alle persone in laboratorio di andare in tutti i musei gli zoo a beccare un giro per il mondo a beccare le specie più assurde e più strane per ricostruire l'evoluzione di questo gene nelle diverse specie ve la faccio breve con queste parole beh sì due CAG nel riccio di mare quattro nello zebrafish che è un pesciolino che ha un sistema nervoso molto più evoluto sette nel topo otto nel ratto dieci nella pecora dodici nell'elefante quindici nelle scimmie e poi arriviamo a noi che siamo variabili per il numero di CAG e noi abbiamo siamo la specie che ha il numero più alto di CAG arriviamo massimo a 35 quindi la storia dei CAG che quando vanno oltre 36 causano malattia non è che è una storia da poco è una storia che ha 800 milioni di anni quasi un miliardo di anni e la cosa straordinaria che gli evoluzionisti ti spiegano è che vedete quando la storia del CAG è prima cominciano i due avrebbero potuto rimanere due giusto lunga tutta l'evoluzione invece no aumentano non solo rimangono poteva farle fuori l'evoluzione no? sparare un tratto inutile sparescono e invece no è stato mantenuto e addirittura è aumentato nel numero scesi e gli evoluzionisti ti spiegano che queste loro le chiamano mutazioni dinamiche sono mutazioni perché è stata una mutazione nel genoma del del riccio di madre giusto? dinamiche perché hanno aumentato di numero ci spiegano che le mutazioni dinamiche sono stati i giri di boa dell'evoluzione della specie e immaginate se associato a quei cag ci fosse qualche funzione e aumentando il numero di cag ecco che forse magari c'è più più funzione neuronale beh insomma in laboratorio abbiamo fatto l'esperimento abbiamo preso un pugno di cellule staminali che noi riusciamo a far differenziare benissimo i neuroni sono bellissimi i neuroni che noi riusciamo a tenere dalle staminali ma abbiamo modificato il genoma delle staminali affinché nel gene Huntington di quel pugno di staminali ci fossero 0 cag poi abbiamo preso un altro pugno di staminali e abbiamo modificato il genoma di quelle affinché nel gene Huntington fossero 2 cag un altro pugno 4 7 8 10 13 ricostruendosi ci pensate a tutta la scala evolutiva dei cag poi abbiamo indotto queste staminali a differenziare secondo i nostri protocolli a neuroni e indovinate qual è il risultato con 0 cag manco un neurone con 2 cag uno mezzo stanco morto subito con 4 qualcuno in più con 7 di più con 8 di più con 10 ti escono dal piattino con 12 con 17 sono sempre di più più funzionali più elaborati questa è una piccola prova in vitro che abbiamo pubblicato sotto gli occhi di tutti recentemente abbiamo pubblicato un mese fa 7 anni di lavoro una piccola prova che dice che forse questo cag che è aumentato nell'evoluzione non è aumentato a caso associato a questa c'è una funzione pro-neurale vedete ma quindi adesso l'immaginazione che forse abbia a che fare con l'evoluzione di sistemi nervosi sempre più complessi arriviamo a noi quindi abbiamo capito ecco il cag ha una forte spinta evolutiva per essere mantenuto e aumentato arriviamo a noi vi ho detto ci ho detto che era pericolosa la domanda però però non posso non dirla dai arriviamo a noi vi ho detto che noi siamo variabili tra 9 e 35 giusto? non è vero nessuno di noi è 9 nessuno di noi è 10 nessuno di noi è 11 12 qualcuno magari avrà 13 siamo tutti spinti verso avere più cag nel gene Huntington al punto che supponiamo qui siamo 100 5 di noi 5 di noi qui dentro ha come numero di cag nel suo gene Huntington un numero ovviamente entro il range sano giusto? sotto le 35 ma alto tra 27 e 35 una persona su 17 ha come numero di cag nel suo gene tra 17 uno dopo l'altro scusate tra 27 e 35 quindi è il range alto limite ebbene se facessimo una risonanza magnetica al nostro cervello scopriremo che qui 5 che hanno più cag nel range sano hanno anche più materia grigia nel loro cervello wow ok allora pensate a sto gene che comincia la sua storia un miliardo di anni fa che arriva a noi con un gusto variabile con un numero variabile perché ce lo siamo ereditate dai nostri genitori e io magari ho 18 o 19 perché i miei genitori avevano 18 19 però qualche volta magari può andare uno in più raramente uno in meno uno su 17 in range alto chi sì quelli hanno più materia grigia ci sono alcuni studi che danno la percezione che è difficile da affermare che ci sia anche più capacità cognitiva molto difficile da prendere con le pinze perché tutti questi test hanno un po' un po' di problematiche pensiamo un secondo ai malati loro di quei C.E.G. ne hanno troppi ok provate a pensare alla malattia in questo modo ecco è arrivata la scienza a cambiare tutto provate a pensare a se la malattia invece di essere la conseguenza di un errore genetico ricordate gli imperfetti di una mutazione a volte i malati ci dicono io sono un mutante lo senti dentro di te tu sei diverso tu hai quella mutazione tu sei sbagliato tu hai un errore e se invece di essere un errore genetico la malattia fosse la conseguenza di questa spinta evolutiva fosse la conseguenza dell'evoluzione che continua a spingere affinché ci siano più e più C.A.G. in quel gene li chiamiamo malati e se invece fossero la frontiera dell'evoluzione pensate il giro di Boa no che questi piccoli risultati che fanno fare nel considerare una malattia guardate che se sono la frontiera dell'evoluzione e alcuni dati veramente oltre a quelli che vi ho detto sembrano dire così anche perché pensate che i malati hanno tutti 40 41 42 ceci sono rarissimi quelli con 100 o con 150 C.A.G. questi sono i casi di Huntington giovanile sono bambini hanno ereditato un salto di C.A.G. che però non li fa arrivare alla fertilità e quindi non posso passare il gene quindi pensate nell'evoluzione il modo tragico di passare il gene perché oggi si è una malattia perché il nostro cervello non regge più di 35 oggi ma il modo di passare la malattia è di passarne con pochi C.A.G. in più e chissà forse un domani si selezioneranno persone nel cui cervello riuscirà a sopravvivere con 40 C.A.G. riuscirà anzi otterrà un vantaggio funzionale perché più C.A.G. significa più capacità funzionale forse si selezioneranno cervelli individui con 40 C.A.G. quindi magari tra un milione di anni la specie umana il suo range non sarà più 35 sarà 40 le sue funzioni cognitive saranno migliori però questo è un paradigma davvero che ci spiega quanto che ci spiega quanto sbagliati siano i nostri pregiudizi quella è una malattia no quanto e ci spiega anche a farci carico dei nostri limiti cognitivi quando non sai dipingi con paura dipingi con negatività dipingi con errore mutazione malattia no vero oggi c'è la malattia davvero ma pensate davvero a quest'altra ipotesi no di di un percorso evolutivo e con i malati che fanno ovviamente parte della nostra evoluzione loro pagano un duro prezzo per tutti noi quindi per forza siamo inclusi per forza no vogliamo farci carico insomma il reciproco del nostro canale io come dobbiamo guardare dobbiamo guardare la conoscenza che non è mai sufficiente, adesso invece faccio un'altra provocazione, perché invece c'è qualcuno che pensa che la conoscenza ormai sia sufficiente, sappiamo molte cose, quindi sappiamo cosa fa la natura, quindi tutto ciò che è naturale, come dice il titolo di un capitolo, tutto libro è dentro, quindi si scatena, secondo me, si scatena, se naturale non faremmo a consalutare. Vi leggo alcune frasi, scrive lei, io non c'entro, lo scrive lei, l'agricoltura biologica fa uso di pesticidi, io condivido esattamente tutte le parole che ha scritto, e i campi coltivati a biologico possono inclinare il terreno con un metallo pesante più tossico del glifosanatomo. Credo sia tanto importante spazzare quel velo di ignoranza che ci fa annuire accreditamente ai bisogni, no ai pesticidi, sì al biologico, e aderire a iniziative contro l'agricoltura chimica, oppure o per la salute della terra e del mondo. Effettivamente c'è chi pensa che la scienza, no, si dia delle conoscenze assolute, e che quando si dice che questo è biologico, questo termine, questo aggettivo biologico, venga abusato, viene abusato in tutti i modi, e mi viene dato per esplicare cose che assolutamente non sono, assolutamente vere. E in questo io sono biologico, quindi cimiento molto del mio anche in tutto questo. E quindi, come facciamo a cominciare la tenere pubblica che è naturale e non sempre fare una nostra vita? Adesso vediamo, ma tanto si trova, ma tanto, ma tanto. Innanzitutto, è un campo bellissimo anche questo, guardate che l'agricoltura è affascinante. Affascinante perché è da quando è nata che innova, è il simbolo dell'innovazione. È affascinante perché lo trovo l'ambito, tra tutti gli ambiti possibili e immaginabili, delle nostre varie interessi e attività, lo trovo, trovo che sia l'ambito dove la divaricazione tra la realtà e la narrazione è maggiore. C'è lì proprio, perché, perché tutti ovviamente abbiamo la convinzione legittima di sapere cosa è il cibo, cosa è il buon cibo, cosa preferisco, cosa c'è lì dentro, il rapporto con il cibo, l'alimentazione, ovviamente è importantissimo. E rischiamo, no, di cadere trappola però, in trappola, nella trappola di questa narrazione, di questo racconto, no, che appunto ci dice che ciò che è naturale è buono. Scusate, il virus è naturale, giusto? È buono. Le medicine che tanti noi prendiamo, tutti noi prendiamo, sono chimiche con la cappa, va da retrosatela, ma neanche per sogno. Quindi questa idea del naturale è semplicemente un meccanismo che riesce a far breccia nel nostro cervello, perché nel nostro cervello le parole grandi, come la parola biologico, e come lo fanno ad essere bello il biologico? Ma scusate, esiste forse una zucchina non naturale, o una zucchina non biologica? Quindi se cominci a dirmi che ci sono diverse agricolture, io ne vedo una sola, no, è l'agricoltura che innova, che usa l'ingegno, che usa la scienza, che usa la meccanica, no, che usa il metodo per capire e adatta quel metodo in funzione del terreno, delle caratteristiche, delle piante che si può coltivare, e esiste un'agricoltura. Invece c'è questo racconto che tende a farci credere che esistano tante agricolture e che alcune siano migliori, quindi c'è anche la demonizzazione dell'agricoltura indesiderata. C'è questo racconto per me bellissimo, stupefacente, sull'agricoltura biologica che mi affascina, mi affascina perché è andato a leggere, veramente, è andato a studiare cos'è e cosa sono i prodotti biologici, ti rendi veramente conto di quanti limiti ci siano qua dentro? Cioè sto cervello è proprio in una scatola buia, è buio qua dentro, e se non lo nutri, sto cervello decide, stabilisce, viene deraglia, non funziona bene, non funziona bene, noi pensiamo di essere fortemente razionali, quella che non è così, siamo fortemente emotivi, ecco quindi che il racconto del biologico, la casetta, il grano alto così, che non esiste, anzi sarebbe un disastro se il grano fosse alto così, no, i pomodori biologici naturali, grossi così, rossi, non c'è niente di naturale, cioè in un pomodoro, c'è naturale intendo originale, se andate a guardare come erano i pomodori naturali di cento, di cento anni fa, che sono così, le carolche sono nere, erano nere, ma è tutto ciò che chiamiamo naturale, perché cresce nella natura, è tutto modificato dall'uomo, non c'è, se no, non esisteremmo, non riusciremo a nutrirci, non riusciremo a nutrire la popolazione, il mondo, scusate, adesso con i devastanti problemi di oggi, abbiamo capito cosa vuol dire non avere le commodities, non avere il mais, non avere il frumento, e studiando ho cominciato a capire la pazzia, veramente di questo racconto, perché in genere a volte magari si tende a credere che il racconto, vabbè, è una teoria, ma poi ci sono conseguenze terribili, cioè se tu non proteggi le piante di mais, perdi il mais, e scopri che negli ultimi dieci, vent'anni, cioè prima eravamo autosufficienti con il mais, adesso il 45% è importato. è importato perché in Italia è proibito da sempre coltivare per esempio le piante di mais geneticamente modificate, che resistono ai parassiti, evitando l'uso di antiparassitari, di fitofarmaci, quindi ridurremmo anche quell'uso, quindi ecco no, cioè noi non possiamo coltivare il mais, no, perché un mais, ed è un mais che non ha nessun problema per la salute dell'ambiente, certificato, studiato, tant'è che lo coltivano gli altri, lo coltivano in Spagna, lo coltivano in Argentina, lo coltivano in Canada e noi lo importiamo, questa è la contraddizione di questo paese, a furia di raccontarci la bellezza del naturale, del biologico, poi si perde nell'innovazione e appunto arrivi alle contraddizioni di importare ciò che non puoi coltivare e di mangiare ciò che non studi, perché poi ciò che importiamo, mais geneticamente modificato, soia geneticamente modificata, per nutrire la nostra zootecnia senza la quale, senza quel mais e quei nutrimenti per gli animali, noi non avremmo forma di parmigiano reggiano, non avremmo i nostri strepitosi prosciutti, non avremmo niente, e quindi tutto il nostro straordinario cibo buono, è buonissimo, è prodotto grazie appunto a queste infinite e inaccettabili contraddizioni che hanno anche un peso economico notevole, perché per nutrire la zootecnia tu importi dall'estero e dai un miliardo di euro, mi sembra, fino a qualche anno fa, adesso magari di più, all'estero, agli imprenditori stranieri, con credo che ogni giorno sono 10.000 tonnellate di mais e soia che arrivano con le navi chilometro zero, quindi questo no e contemporaneamente ecco che c'è questo racconto continuo e per me stupendo perché ci spiega tutto del nostro cervello, ma davvero inaccettabile di questa agricoltura biologica che dovrebbe fornire prodotti, che fornisce prodotti biologici, ma appunto, ma perché gli altri non sono biologici? Pensate il valore di un termine usurpato, attorno al quale costruisce un marketing che fa percepire un valore aggiunto, ma è il marketing di valore aggiunto? E se tu vai a misurare cosa c'è dentro di quella zucchina biologica, cioè dall'agricoltura biologica, ma c'è dentro niente di diverso di quell'altra zucchina che anche è biologica, ed è dall'agricoltura integrata, dove integri le conoscenze, e l'agricoltura biologica, cioè vai a studiarla davvero è piena di contraddizioni, ma la devi spiegare, la devi raccontare invece di tacitarla, però insomma c'è questo consenso generale, anche politico, per cui è un racconto stupendo, e le contraddizioni e i limiti sono presto detti. Innanzitutto ho scoperto, io non lo sapevo, i prodotti sono definiti biologici non perché c'è qualcosa che misuri sulla zucchina, ma semplicemente perché seguono un disciplinare, carta quindi, tu devi operare, il disciplinare è stabilito da uomini e donne, da persone, da aziende, ovviamente è accettato dall'Europa, quindi qui almeno c'è un disciplinare europeo, che dice se fai così, se non usi i fitofarmaci, i pesticidi di sintesi, ma usi i pesticidi naturali, ma i pesticidi naturali sono fatti di chimica, ma è che sono, pensate le contraddizioni, è uno dei grossi limiti che io ho scoperto studiando appunto dell'agricoltura biologica, è che con questo dogmatismo e con questa ideologia praticamente rifiuta tutta una serie di molecole anche innovative, sintetiche, della quale ne usi in pentogrammi sulle culture, proteggono, quindi vi vieto di usare queste molecole e alla fine si trovano con una piccolissima manciata di molecole per difendere le loro culture, ma i parassiti fredano, no, delle ideologie politiche, e quindi ecco che queste culture saranno fortemente attaccate e la possibilità di avere 5 zucchine, ne vorremmo un po' di più, è molto bassa o limitata dal fatto che non puoi proteggere i campi, quindi un problema è la protezione delle piante con quelle poche molecole naturali, tra le quali vi ricordo il solfato di rame, che scusate ma è un tutto naturale, si va beh, sta nelle rocce, sta nelle miniere, ma c'è un processo di modifica chimica, no, perché bisogna, e poi il solfato di rame che è ammesso in agricoltura biologica permane nel terreno, penso, per decine di anni, e quanto di più tossico esista a noi, o una delle molecole assolutamente con alta e siccità elevata, quindi vedete, è un'agricoltura antiscientifica, perché rifiuta la chimica e le nuove, l'innovazione per limitarsi a quelle poche molecole, tra le quali, molte delle quali, tossiche. Un secondo elemento è che rifiuta i fertilizzanti di sintesi, e tu hai bisogno di azoto per nutrire le piante, se ti rifiuti di usare le sintesi chimiche per arrivare ad avere l'azoto, beh, dovrai usare, non so, le deiezioni animali, e però l'azoto non è che sono gli animali che lo rendono, che lo producono dentro il loro stomaco, a loro volta quell'azoto deriva dal nutrimento degli animali, e quindi è che torniamo al mais, alla soia, è una contraddizione continua, però la duratura biologica rifiuta i fertilizzanti chimici e rifiuta le molecole per bellare le malerde, perché poi le malerde, il contatto, il riempio nei campi, e quindi ci sono un sacco di problemi, e quindi l'esito è che la produttività dei campi a biologico è bassissima, addirittura arrivando per alcune al 50% o meno, al 70% o meno, sapete cosa vuol dire? Ammesso che si voglia dar da mangiare a tutti, magari poi si vuole arrivare a che solo mi mangiano, ma se tutti vogliamo mangiare, io sarei che tutti devono mangiare prodotti sani, al gusto giusto, eccetera, se vogliamo mangiare tutti, significa che si devono raddoppiare i terreni, giusto? Ma dissodare nuovi terreni significa disboscare, e il dissodamento gas serra, quindi raddoppiare i terreni, anche dal punto di vista ambientalistico, è terribile, quindi se tutti dovessimo nutrirci con prodotti biologici, dovremmo disboscare l'Amazzonia, o probabilmente coltivare Marte, o trovare un pianeta da coltivare, e l'ultimo, uno dice, vabbè, no, un vanto però, adesso umica tanto, non più, è quello che sarebbe, avrebbe delle caratteristiche nutrizionali migliori, quei prodotti, ma anche questo è stato sfatato, quindi, la domanda è, alla fine del racconto, perché andiamo al supermercato, e i prodotti biologici costano il 200% in più, il 250% in più, cioè, dov'è il valore? E io qui vedo veramente un problema, perché, anche dal punto di vista etico, perché si instilla nelle persone, nei cittadini, anche l'idea, con questa narrazione, che se tu non nutri la tua famiglia, il tuo bambino, con prodotti biologici, tu non ti stai prendendo cura della sua salute, non ti stai prendendo cura dell'ambiente, arrivando al paradosso, che magari invece per cercare di alimentarsi con quei prodotti biologici, ecco che le famiglie comprano meno frutta e verdura, e qui sì che c'è il problema, perché, informate che frutta e verdura sono il miglior nutrimento dell'uomo, antiossidanti, contro malattie, tumori, quindi c'è veramente un problema, anche sotto il profilo etico, quindi questa narrazione è straordinaria, ma va sfatata, ed è molto difficile, è molto difficile perché è un racconto anche che permette di pagare di più gli agricoltori, no? E insomma c'è un problema, perché effettivamente l'agricoltura non rende, ma allora insomma diciamo la verità, e spieghiamo ai cittadini che c'è un problema, invece di creare una nuova agricoltura, perché poi se ne possono creare di mille altre, per creare delle nuove nicchie di marketing e di vendita, che però a me sembra, in fin dei conti, promuovano una specie di inganno, no? ai cittadini facendo loro credere, che davvero da punto di vista nutrizionale non c'è niente, l'ambiente non è migliorato, magari possiamo dire l'agricoltura biologica potrebbe aver senso in alcuni terreni, magari prossimi, vicini alle montagne, alcune nicchie, no? di terra, dove insomma, se anche il prodotto non è uguale, perché poi da vista commerciale, tu vuoi le carote, insomma, devono avere anche delle caratteristiche, perché se no non le compriamo, se sono storte, se sono una lunga e una corta, non le compriamo, giusto? Quindi possono esserci delle nicchie di coltivazione, no? di questo tipo di agricoltura, cioè idonea a questo tipo di agricoltura, e ciascuno deve essere libero, eh? di coltivare e mangiare in qualche cuore, sia chiaro. Ma per me il problema è quando si promuove a livello istituzionale o di leggi, insomma, questo tipo di racconto, dandogli una patente che non ha. E quindi, insomma, anche qui si parla davvero degli uganni della nostra mente, l'unico modo per non farci gannare è prima di decidere, prima di scegliere quel metodo del laboratorio, possiamo portarlo anche dalla nostra cucina, nella nostra vita, io credo che lo facciamo tutti, significa prima di decidere, studiare, approfondire, cercare di capire, io credo che davvero la scuola, tornando alla scuola, e la nostra vita, almeno in questa parte del mondo, ci dà davvero tantissimi strumenti per vivere la nostra vita e decidere in modo consapevole. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, a tutti. A presto, a presto, a presto, a presto. Io sonnetto, ci può aiutare in tanti, tanti. Qui ci sarebbero tante altre cose, ma non ho mai l'ora che si portate, i ragazzi, penso, anche logistici. Concludo con alcune sue parole per dire, appunto, per ripetere questo concetto che la conoscenza ci insegna sempre qualcosa di nuovo, ma che la conoscenza del nuovo passa anche attraverso il passato, il vento, come si è stato prima. E questo è apportato, ve lo dico, nell'ultimo capitolo del libro, il settimo, dedicato, chiaramente non si deve essere diversamente, al nuovo coronavirus. Dice la scrittrice, non c'è nulla che la scienza scopre o studia che non possa essere spiegato. Lo ha drammaticamente ricordato la terribile di Sars-Cov-2. Ma la storia di Sars-Cov-2 ci racconta anche tanto del nostro passato e della storia delle epidemie e malattie effettive che in un passato più o meno vicino hanno stravolto, a più riprese, l'esistenza delle generazioni che ci hanno preceduto. Quindi, conoscere ciò che c'era prima ci aiuta ad affrontare quello che c'è adesso e quello che verrà poi, in quest'ottica, di continua crescita e crescita. Io, a questo punto, direi che l'unica cosa che possiamo fare è chiedersi qualche domanda, qualche curiosità nel pubblico, nei ragazzi e chiedere la disponibilità alla senatrice di rispondere. Io mi chiamo Stefano Ligini. Vuole usare il microfono? Che cosa persone non ha fatto che lo faccio, professor? Perché faccio i complimenti per la finalei Sicilioni enorme che è anche l'unione della classe dei manifesti che non accade alle stati grande nati. La mia domanda è un pò provocatoria, io mi chiedo, la senatrice è preoccupata di una malattia in particolare interessante ma indubbiamente rara. Allora la domanda è che l'occuparsi di malattie così rare è un animo con cui dei gruppi di scienziati si occupano di cose in un mondo molto rare e non si occupano invece di problemi che riguardano le malattie, faccio il caso, la grande maggioranza delle malattie che noi abbiamo oggi. Quindi l'occuparsi di malattie rare è un animo, un animo facile in conto perché mi occupo di una cosa ristretta che riguarda un pubblico molto piccolo ma che non sono i problemi, che abbiamo tutti i problemi di malattie. La provocazione è chiara. Va bene, quindi il fatto che lo studiare, diciamo che quando si racconta gli estremi, io capisco il fatto che studiare è una malattie rara riguardo a poche persone, invece possono essere da studiare, secondo lei, malattie che riguardano una maggior numero di persone. Io penso che... Io la contesto questa affermazione. Perché studiare una malattia rara per quelle persone significa studiare tutto. Per quelle persone la malattia da studiare è quella. Non ha più valore uno studio che è dedicato a affrontare una questione che riguarda dieci persone rispetto a uno studio dedicato a una questione che tocca solo una persona. Questa sarà una discriminazione. Io credo che ci si debba impegnare a studiare ogni ambito del sapere, non solo le malattie. Posso comunque rassicurarla che studiare una malattia rara è difficilissimo, perché ovviamente ci sono pochi fari puntati, poche risorse. Posso solo dire che quando sono tornata dal mister Gritti mi sconsigliavano di studiare una malattia rara, non è esattamente l'opposto di quello che dice, ma... Forse perché io non vedo malattie che abbiano più o meno dignità di essere studiate o persone che abbiano più o meno dignità di essere curate. E quindi la mia dedizione è e sarà totale. Posso anche dirle che ovviamente significa anche che malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, che toccano ovviamente indubbiamente molte persone, hanno i fari puntati di tantissimi laboratori, quindi non è che perché ci sono persone che studiano le malattie rare, le malattie non rare sono meno studiate. Anzi, vi aggiungo anche un'altra considerazione, pensi che i colleghi che studiano l'Alzheimer o il Parkinson beneficiano dei nostri risultati e noi che studiamo l'Antington beneficiamo dei risultati che hanno i colleghi che studiano la sclerosi multica, la sclerosi amiotrofica laterale. Si ricorda, vi ricordate che vi ho citato il farmaco del silenziamento genico, giusto un pezzettino di DNA contro il gene Huntington con l'idea di silenziarlo. Sa da dove arriva quella storia per dire quanta cross-fertilizzazione c'è? Da dei botanici che studiavano le petunie e avevano queste belle petunie viola che volevano rendere più viola. E allora cosa hanno fatto questi signori? Hanno preso il gene delle antocianine, che è quello che dà il colore viola, e hanno ficcato nella petunia più copie del gene viola. Ok, però beh, cosa è successo il giorno dopo? Poi arrivano e la petunia è bianca, scoprendo così che la petunia ha un meccanismo interno, ma ce l'hanno anche altre specie, che deriva dal suo DNA, quindi il nostro DNA è una roba meravigliosa. Ha un meccanismo interno per silenziare la presenza o l'attività di geni che improvvisamente cominciano a lavorare tantissimo. È bello questo meccanismo, eh? Questo l'hanno chiamato silenziamento genico, quindi la petunia ha un meccanismo per silenziare il troppo gene viola, per fare un silenziamento genico. Gli hanno dato premio Nobel, eh, a questi signori che hanno scoperto sta cosa. Arrivando a noi, abbiamo pensiero che si accende la lampadina, facciamola anche noi, facciamola nel mammifero, facciamola nell'uomo. produciamo in laboratorio dei pezzettini di DNA che funzionino da silenziatori, quindi è nata l'idea del silenziamento genico, che si possono costruire dei pezzi di DNA, la petunia ce l'aveva intrinseco, per silenziare degli altri pezzi di DNA. Questo per dire quanto quello che lei sostiene non solo, vabbè, ognuno ha la legittimità dei propri pensieri, eccetera, non solo non è giustificato socialmente, ma neanche se ci pensiamo professionalmente e scientificamente, perché io lotto affinché tutti gli studiosi abbiano il diritto e il dovere di studiare ciò che gli pare, a patto che, a patto che ovviamente sia un'idea giustificata, a patto che quell'idea venga messa in competizione con gli altri, quindi io, altrimenti, mi scusi, ma studiare filosofia non salva nessuno, ma io sarei in prima fila a battermi, a lottare affinché il filosofo abbia tutto il diritto di sviluppare il suo prossimo pensiero, ma sono lì al piano suo. Quindi non solo c'è il diritto di studiare a 360 gradi, non solo c'è la libertà di studiare nel nostro paese e va a difesa, ma vede, paradossalmente, andando nella direzione che lei dice, beh, saremmo, lavoreremmo tutti in compartimenti stagli, cinque persone di qui, dieci di là, senza sapere, tutti bilanciati e non ci sarebbe questo grande campo, questa impresa conoscitiva, organizzata, che nemmeno si conosce nei suoi vari rami, che è la scienza e che va in tutte le direzioni disinteressandosi di quante sono le persone che ne beneficeranno, non può neanche dire quando ne beneficeranno, ma proprio disinteressandosi di tutto. E anzi, le posso dire che verrebbe preso, e anzi, una delle giuste lamentele di queste persone, dei malati o malattie rare, è che le industrie farmaceutiche le risorse sono poco dedicate a queste malattie rare, e quindi pensi, quanta discriminazione quel tipo di pensiero metterebbe in campo, quindi ho capito che la sua era una provocazione e che tutti siamo qui perché vogliamo studiare, imparare, farci cari con l'uno dell'altro, dei malati di Alzheimer, dei malati di sclerosi multipla, insomma di tante cose che fortunatamente possiamo studiare, conoscere e cammin facendo in molti casi anche vincere. Grazie mille, grazie mille. Dov'è? Se c'è e qual è il punto in cui la scienza si deve fermare? Bella questa, e rispondo subito. Ma non esiste, non esiste quel punto. Allora, la conoscenza e la libertà di studiare deve essere totale, totale, attenzione, la scienza indaga l'ignato. Sarei al fianco di chiunque volesse lottare per il suo diritto di studiare e di capire, eccetera. A me penso davvero che sia mal posto il punto dove sicuramente, io sono d'accordo e figuriamoci, è che a un certo punto una volta che la scienza ha studiato e ha capito, ha conosciuto e ha portato le prove, e quelle prove sono sul tavolo, l'applicazione e le conseguenze devono essere sul tavolo al quale sono chiamati i vari ambiti della società, no? Quindi non può la scienza decidere, queste sono le decisioni politiche che poi hanno delle implicazioni etico, morali, filosofiche, che rappresentano le varie visioni della società, scusi, in base a questa considerazione si potrebbe anche sostenere, non lo sostengo, che la scienza di fronte alla sperimentazione animale si deve fermare, ovviamente dipingendola anche come bilissezione, sapete che è tutto falso, il termine non esiste, non esiste la bilissezione, si chiama sperimentazione animale che è fortemente regolamentata, a livello europeo, a livello italiano, anche se siamo l'unico paese con la legge sulla sperimentazione animale più restrittiva di tutta Europa, non avendo recepito la direttiva europea, contraddizioni, messa in mora, eccetera, eccetera, ma si potrebbe sostenere che la scienza si deve fermare di fronte alla sperimentazione animale, invece ci sono ovviamente scienziati, studiosi, che pensano che la sperimentazione animale sia importante, debba essere condotta secondo le regole, secondo i canoni, e che ci sia un diritto alla scienza, e che quindi ci sia un diritto all'avanzamento, quindi si può anche discutere sulla sperimentazione animale, è stato fatto nel 2014, o scusate, per anni, prima di arrivare alla direttiva europea del 2014, intorno a quel tavolo, su questo argomento, c'erano tutti, incluso gli animalisti, e quindi è stata identificata una modalità per affrontare la sperimentazione animale, senza la quale non saremmo qui, non abbiamo farmaci, non entreremmo in ospedale, gli ospedali sarebbero vuoti, quindi poi ci sono anche le conseguenze, e anche la necessità che io rivendico, io voglio lavorare per quelle persone, io voglio lavorare per quei malati, Huntington o Alzheimer, che siano, quindi voglio farmi carico di quella responsabilità, ma non decido in modo autonomo, quindi una volta che capisco che la sperimentazione animale è importante, ecco che l'argomento, e le varie modalità attraverso cui viene compiuta la sperimentazione animale, diventa un argomento di dibattito di una società, che è andato avanti per anni e si è arrivata a una conclusione di quella direttiva, quindi ci deve essere libertà, guardate che la scienza senza libertà non è scienza, perché per porsi su quell'angolo di frontiera, lo scienziato deve avere tutto il campo libero, se invece gli si dice, tu devi andare solo di lì e non puoi andare di là, stiamo già limitando la possibilità di capire, di indagare, poi però quando ci sono i risultati, quando ci sono le applicazioni, si può decidere se l'editing genomico degli embrioni si deve fare oppure no, questo spetta alla scienza decidere, spetta alla società, ai vari contesti culturali, etico, filosofico, ora politici di cui siamo parte. No, fermare, lasciamo sempre a tutti. Grazie. 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 Nel libro questi argomenti sono trattati bene, in maniera comprensibile per tutti, e quindi tantissime sarebbero le domande che vogliamo rivolgere ancora alla senatrice, però ormai correttata e siamo a una stretta chiude. Ma vi ripeto, molte delle domande che avete in mente, a molte di quelle domande, troverete risposta sicuramente in questo libro, perché abbiamo toccato soltanto alcuni argomenti. E vorrei dire un'ultima cosa, prima di passare la parola al direttore che è una facilità delle macchine, vorrei dire che leggendo il libro che è stato scritto l'anno scorso, nel 2011, e nel 2021, scusate, e ora dà la finanziaria di numeri, nel 2021, in alcuni paragrafi si parla di cose tristemente, che sono diventate tristemente in attualità, ad esempio anche la ricerca della storia delle persone e nelle forze comuni. Oggi purtroppo la guerra è ritornata, nel 2021 non c'era, però si parla anche di questi argomenti, argomenti che sono di stringente autorità. Quindi vi dico, è un libro che non deve spaventare per la mole, ma tratta un sacco di argomenti. Dottor Camporesi, a lei. La sola cosa, vado qui, tanto, voglio ringraziare, ho sentito tutte le persone che ci sono state lì, che hanno avuto la pazienza, ma credo che la passione di Elena Cacciagno e le cose che ci ha raccontato ci abbiano affascinato e la voglio ringraziare. De ringraziarla un pensierino particolare, un nostro socio ha fatto stampare da un acquerello originale una cosa che è stata pensata da un'autrice forlivese e viso di donna in occasione della mossa della Maddalena. Noi facciamo, tra le altre cose, un ciclo che la cerca di proporre, una riflessione sulla condizione femminile che prende tutto dalla mostra che adesso è ancora sulla Maddalena e fa piacere farle dono di questa piccola strada e con il strada del suo passaggio a forlivese e ci so che vorrei fare tutto questa cosa che la vostra dirigente grazie a tutti. Dico solo una cosa che piccola se si può comprare il libro all'uscita lo può trovare faremo un'anteprima il 9 di maggio la presentazione è qui un orario mattutino ma ci sarà la possibilità credo di avere anche qualche testo un libro che pensiamo importante è un libro scritto dal filosofo Remo Bodei che è morto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti